Amici di Corsi di MotoTV, giornata trionfale per il tricolore qui al Fimi Junior GP World Championship a Misano perché se è vero che il buon Giulio Pugliesi ha vinto gara 1 delle TC e Alberto Sur ha vinto la moto 2 il buon Lorenzo Laporta ha vinto la Stocca, allora intanto benvenuto, ciao Lorenzo Grazie, ciao ciao Misano toglie e Misano dà, mi verrebbe da dire, perché col Cive è stato un weekend un po' difficile però qui ci siamo tolti una bella soddisfazione Sì sì, una gran soddisfazione perché comunque è un campionato europeo quindi il livello è alto i piloti hanno fatto il mondiale tanti anni e sono contento poi la moto alla fine l'ho provata venerdì e abbiamo deciso di correre venerdì sera vedendo come sono andate le prove libere appunto quindi direi che meglio di così non si poteva fare Ma infatti c'è un retroscena, io ovviamente prima di arrivare qui avevo guardato la starting list arrivo e vedo dalla porta, dico ma ah sì, abbiamo deciso ieri sera, vediamo come va poi pole position, boom, lì, quindi già voglio dire no, il buongiorno si fa da mattino poi la gara in realtà è stata interrotta da maniera rossa, ecco eri un po' indietro rispetto alla tua posizione di partenza, cosa è successo? No niente perché venerdì poi ho fatto, no sabato mattina ho fatto una leggerezza nelle libere diciamo e mi sono beccato un long lap e niente me lo son preso perché avevano ragione quindi non ho nemmeno reclamato né niente e quindi sapremo di perdere tre secondi, tre secondi e mezzo poi c'è stata una caduta e mi ha fatto perdere un sacco di tempo c'è stato una volta quando ho passato un pilota sono uscito dal verde e l'ho dovuto far ripassare ma è passato dopo un secondo quindi avevo perso un po' per quello ma comunque sarei venuto su tranquillamente Saresti venuto su però diciamo che insomma un po' di sfortuna qua e là questa maniera rossa in qualche modo ti ha ridato indietro quello che ti aspettava perché poi pronti via, altra gara di cinque giri direi, hai preso in testa, sei andato e come ha detto giustamente comunque c'era in pista anche un certo verdoia cioè voglio dire nomi pesanti quanta, adesso a parte a un europeo quindi con tutto quello che ne concerne quanta carica ti dà psicologicamente dopo un weekend un po' sfortunato come quello di apertura del Cive fare una bella prestazione, cioè si guarda alla stagione con un po' più di positività Sì sì certo, infatti dai alla fine l'obiettivo era vincere già da venerdì sera e ci siamo arrivati quindi sono contento poi venivo da quattro anni dove volevo fare un cazzo di podio porca troia, non c'era mai verso quindi sono contento che ci siamo riusciti con una squadra che io non ho mai visto è una moto comunque diversa dalla mia perché questa è una stock, la mia una super sport e ha abbastanza cosine piccole ma che fanno la differenza e quindi dopo il weekend del Cive ero molto arrabbiato quindi dai oggi mi sono un po' rifatto la cosa che mi fa riderissimo è che hai detto porca boia, sono quattro anni che si è e arriva il risultato nel weekend più inaspettato in situ, ho chiamato all'ultimo vediamo come va se correre poi corri, poi long lap e poi l'arbadiero cioè remava tutto all'ultimo momento però poi è arrivato quello che aspettavi e che ti meriti perché l'abbiamo detto altre volte in Moto2 un po' di difficoltà è andata come è andata a 600 stai ripartendo ma questa dovrebbe essere la pietra miliare che dà uno start nuovo alla tua carriera ma spero di sì dopo nel 2018 ho vinto la mia prima gara del mondiale Moto3 qua e oggi ho vinto la mia prima gara della stock 600 qua quindi chissà se non forse dai se non si ha un punto di partenza che ne so allora noi sappiamo che il Cive lo fai con Alto Go il team campione d'Italia del 2023 ecco qui ti hanno chiamato all'ultimo adesso gli hai piazzato lì una vittoria come prosegue? lo sai? continuate anche qui perché sai? sono quelle cose un po' strane no? ma per ora l'idea era di fare solo questa gara come sostituto di un pilota che si era fatto male poi sì ste cose sono sempre molto strane non si sa mai dai comunque la priorità alla fine è rimontare nel Cive cercare di arrivare a fare le wildcard italiane mondiali però potrei pensare anche qualcosa qua dai vediamo tu ci potresti pensare io mi metto i panni del team e dici abbiamo preso sostituto pole position vittoria aspetta beh che magari noi le stiamo in un'altra moto e proviamo a fare il colpo grosso cioè no? sicuramente ci stanno pensando sicuramente ci stanno pensando bravo Lorenzo che sei tornato alla vittoria in bocca al lupo per il Cive che andrà a valle lunghe a fine maggio e ti auguriamo di farti anche questo stock europeo grazie viva il lupo ciao